Il 25 aprile scorso Il 25 aprile scorso Il suo stile di cantante e di autrice Punto di riferimento della New Wave Targata New York Dopo che gli album come Horses o Radio Etiopia L'avevano definitivamente consacrata come artista Con l'Italia Patty Smith ha avuto un rapporto del tutto particolare Due suoi concerti tenuti a Bologna e Firenze nel 1980 Radunarono complessivamente quasi 150.000 persone In ricordo di quello che fu un vero evento musicale di costume Patty Smith ha manifestato l'intenzione di iniziare Proprio dall'Italia il suo prossimo tour mondiale I guess that's why We wrote such an optimistic song As people of the power Because the resiliency of the human spirit I mean it's just wondrous We are filled with flame And we can't let all these things get us down We can't give up We can't hide in a shell We can't start watching CNN like it's a soap opera We can't do something about everything We can't help any situation We can't hide in a shell 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti